Salve a tutti, oggi vedremo la versione inglese di piante contro zombie Aspettate Ok, iniziamo l'avventura ma prima... Ok, iniziamo l'avventura Continuiamo Insegniamo che punto è il progresso del livello Sono quasi a metà Ok, ora sono a metà Abbiamo sicurato la metà E abbiamo finito il primo livello Abbiamo già vinto una pianta Iniziamo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Terzo livello del primo mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.